In arrivo un nuovo chiarimento da parte del Ministero dell'Istruzione. Secondo quanto segnala il sole 24 ore, si va verso un'ulteriore modifica della regola sulla quarantena. Niente tamponi per gli studenti delle scuole medie e superiori vaccinati in regime di autosorveglianza e senza sintomi, quindi si resta in classe con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 almeno 10 giorni. Il nuovo provvedimento sarà varato alla luce dell'elevato numero di contagi, di alunni e dei disagi che si stanno verificando nelle scuole sull'applicazione delle nuove regole entrate in vigore con la ripresa delle lezioni. Le norme sono diverse a secondo del tipo di istituto, asilo scuola elementare media superiore di quanti casi ci sono in classe, del fatto che gli studenti siano vaccinati o meno per le età in cui è prevista la vaccinazione. Scuola dell'infanzia, se nella classe o nella sezione c'è un caso positivo, le attività sono sospese e i bambini sono in quarantena per 10 giorni. Scuola primaria, nella scuola primaria se c'è un caso positivo in classe parte la sorveglianza, test antigenico, rapido o molecolare quando si scopre il caso di positività, poi un altro dopo 5 giorni dall'ultimo contatto. Se i casi positivi sono due o più, la classe va in quarantena e per 10 giorni la lezione si svolge in DAD. Scuole medie e superiori, con un positivo in classe si attiva l'autosorveglianza, lezioni in presenza, ma gli alunni devono indossare le mascherine FFP2. Con due positivi le cose cambiano tra vaccinati e non. I non vaccinati, quelli che non hanno la terza dose, quelli che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e quelli che sono guariti dal Covid da più di 120 giorni seguono lezioni in DAD, tutti gli altri in presenza con FFP2. Con tre positivi la classe è in quarantena per 10 giorni e in DAD.